Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto di basilico. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono basilico fresco, parmigiano, pecorino, pinoli, aglio, olio e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano, il pecorino ed azioniamo il bimbi per 15 secondi da velocità a 6 a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i pinoli, l'aglio senza anima ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. mettere il basilico, il sale e l'olio. ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 7 spadolando. Il pesto è pronto, trasferire in una ciotola. Pesto di basilico. Si conserva in frigo in vasetti di vetro coperti con olio per 4-5 giorni. è possibile congelarlo. Grazie e alla prossima ricetta! chau! E' Grazie per la visione!